Buona domenica e ben ritrovati con il consueto riepilogo delle notizie della settimana che si è appena conclusa. Lunedì 17 aprile. Due tonnellate di cocaina ritrovate in mare a largo delle coste orientali della Sicilia. Sono state sequestrate alla Guardia di Finanza di Catania e dai finanzieri del gruppo aeronavale di Messina. Due tonnellate di cocaina rinvenute in mare a largo delle coste orientali della Sicilia è stato effettuato dai militari del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza insieme ai finanzieri del gruppo aeronavale di Messina. Un vero e proprio sequestro record. Nelle acque costiere della Sicilia orientale le fiamme gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. Da un sommario d'esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell'imballaggio verosibilmente diretto ad evitare infiltrazioni di acqua in modo da preservarne il contenuto e al contempo scongiurare il pericolo di inabissamento. Le peculiari modalità di confezionamento e la presenza di un dispositivo luminoso per consentirne il rintraccio hanno fatto ipotizzare che potesse trattarsi di un incarico di sostanze stupefacenti lasciato in mare da una delle navi cargo che solcano quel tratto di costa per essere successivamente recuperato e trasportato sulla terraferma. È stato pertanto attivato il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, il quale anche con il supporto del reparto operativo aeronavale di Palermo ha fornito collaborazione in relazione alle attività di recupero dei colli a mare e ha inoltre coordinato le successive operazioni di messa in sicurezza del carico svolgendo i necessari approfondimenti sul delicato contesto. È stata avviata anche un'attività di ricognizione aerea da parte dei veivoli del gruppo di esplorazione aeromarittima di pratica di mare della sezione aerea di manovra di Catania volta a verificare l'eventuale presenza di ulteriori colli dispersi nell'area circostante a quella del rinvenimento. Terminate le attività aeree e in mare, unità specializzate del nucleo PEF di Catania hanno proceduto all'ispezione dei colli riscontrando l'effettiva presenza all'interno degli stessi di numerose panetti contenenti sostanze biancastre in polvere che da un primo esame tramite l'utilizzo di test speditivi è risultata essere cocaina. Informata costantemente la procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, si è proceduto pertanto al sequestro di iniziativa nei confronti però di ignoti di oltre 1.600 panetti contenuti in circa 70 colli per un peso lordo complessivo di quasi 2.000 kg. Allo Zenne 2 a Palermo 17 misure cautelari per spaccio di droga, rapina aggravata, detenzione illegale di arma clandestina e munizioni, ricettazione e furto aggravato. Spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, detenzione illegale di arma clandestina e munizioni, ricettazione e furto aggravato. Con queste accuse i carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno dato esecuzione a 17 provvedimenti cautelari. L'indagine condotta tra ottobre 2021 e febbraio 2022 ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all'esistenza di una piazza di spaccio al quartiere Zenne 2 gestita da soggetti dediti principalmente allo smercio di cocaina, hashish e marijuana. Fulcro dell'attività è la via Agesia di Siracusa nonché la via Fausto Coppi. L'ausilio di videoriprese, intercettazioni telefoniche ed ambientali ha permesso di riscontrare come le strategie criminali fossero focalizzate su uno strutturato apparato di vendita in grado di fruttare oltre 30.000 euro mensili e soddisfare la domanda giornaliera di decine di acquilenti provenienti da tutta la provincia. In particolare l'11 gennaio del 2022, durante una perquisizione condotta in un'abitazione in via Dalvise, i carabinieri hanno trovato all'interno del frigorifero della cucina circa un chile e due di suffacente del tipo marijuana, nonché materiale per il confezionamento. Nel guardaroba della camera da letto era stata invece trovata una pistola con matricola brasa con 24 cartucce. Anche i meandri dei padiglioni del quartiere sono stati sfruttati per occultare le dosi pronte per le cessioni. Tra gli indagati figura anche un 19enne che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, nipote di uno dei maggiorenni già gravato da precedenti specifici, destinatari di misura cautelare a cui sono stati contestati ben 38 capi di imputazione per spaccio di hashish e marijuana. Le perquisizioni operate hanno consentito nel complesso di arrestare in flagranza di reato 4 persone, di segnalare alla locale prefettura con gli acquirenti 10 soggetti, mentre lo stupefacente complessivamente sequestrato ammonta circa un chilo e mezzo. Martedì 18 aprile, operazione Cagnolino della Guardia di Finanza di Palermo, scoperta associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti dalla Calabria alla Sicilia, eseguiti 21 arresti, sequestrati 50 kg di cocaina e beni per un valore di oltre un milione di euro. I finanziari del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emesse dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica a direzione di struttura antimafia nei confronti di 21 persone per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono indiziati a vario titolo per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tramite una strutturata rete operante tra la Calabria e la Sicilia. Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Palermo Gico hanno riguardato un gruppo criminale con base operativa nel capoluogo siciliano che sarebbe stato diretto da due fratelli palermitani, figli di uno storico esponente del mandamento mafioso di Villa Grazia Santa Maria di Gesù, i quali sarebbero stati in affari da anni con una famiglia calabrese coinvolta nella gestione del narcotraffico nella provincia di Reggio Calabria e legata da vincoli di parentela con esponenti di spicco dell'Andrina di San Luca che avrebbe garantito il sistematico approvvigionamento di grossi quantitativi di droga. Gli accordi, secondo le indagini, prevedevano la fornitura di almeno 10 kg di cocaina al mese destinata al mercato paermitano che avrebbe generato un giro d'affari illecito di circa 10 milioni di euro all'anno. La droga, stoccata in depositi dislocati in provincia in Reggio Calabria, veniva trasportata su gomma lungo la tratta Reggio Calabria-Messina-Palermo, abilmente nascosta con diversi carichi di copertura o all'interno di sofisticati doppi fondi creati nelle autovetture dei corrieri accessibili mediante aperture elettromeccaniche. Nel corso delle indagini sono stati tratti in arresto sei corrieri di droga operanti anche nel pieno del periodo pandemico, sfruttando le proprie attività lavorative e due basisti che custodivano parte dello stupefacente a Palermo con il sequestro di circa 50 kg di cocaina che se immessa nel mercato avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 4 milioni di euro. Le fiamme gialle paermitano hanno poi proceduto a valorizzare in chiave patrimoniale, secondo una procedura operativa attuata in tutti i settori di servizio volta a disarticolare in maniera radicale le organizzazioni delinquenziali, gli elementi acquisiti nel corso delle indagini attraverso l'esame, il confronto, l'incrocio di informazioni estratte dalle diverse banche dati in uso al corpo, dalle quali emergeva l'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e la capacità reddituale dichiarata richiedendo l'applicazione di misure cautelari patrimoniali. Con lo stesso provvedimento il GIP ha quindi disposto il sequestro preventivo di società, beni immobili e immobili riconducibili agli indagati per un valore complessivo pari a oltre un milione di euro. Sei dei destinatari alle misure cautelari infine risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza. Salute contro la diagnosi fai da te, un portale di fisiatria creato dal medico palermitano Marco Di Gesù, gratuito per medici e pazienti. La piattaforma si chiama fisiatria interventistica, esattamente fisiatriainterventistica.it, in realtà non è nuova, è rinnovata, esiste già da cinque anni ma da alcuni giorni abbiamo lanciato online una nuova versione decisamente più friendly per l'utente che il paziente. A proposito di pazienti, quanta disinformazione c'è nell'ambito medico e soprattutto chi è che diffonde queste notizie false? Bella domanda, disinformazione c'è ed è tanta soprattutto nell'ambito in cui insisto fortemente io che è l'ambito delle patologie muscoloscheletriche che è un ambito della medicina ahimè sfortunato, è contaminato da tanti aspetti anche non scientifici e non medici per cui il paziente è più spesso indotto a gestire un sintomo piuttosto che curare una patologia dai prodotti da banco alle medicine alternative, alle stregonerie. Diciamo che la medicina muscoloscheletrica è risente di tante contaminazioni e quindi la disinformazione è talvolta casuale come avviene in generale in diversi ambiti della medicina e talvolta anche evoluta perché è gravata da interessi che spingono il paziente verso soluzioni miracolistiche piuttosto che una soluzione medica. Cosa si trova in questa piattaforma? In questa piattaforma il paziente può trovare agevolmente un elenco di patologie, quindi divise per distretto corporeo, quindi se ho dolore alla spalla identifico la spalla e all'interno di quella riesco ad avere un po' di informazioni sulle principali patologie della spalla e di conseguenza anche alcune possibili opzioni terapeutiche e soprattutto un elenco di colleghi specialisti, fisiatri e non solo, geolocalizzabili a cui puoi poter rivolgere domande più dirette e prendere eventualmente riferimenti per un contatto in presenza. Cosa si può fare per convincere le persone magari a fidarsi un po' di più? Spesso ciò che è gratuito viene visto da tutti con un legittimo scetticismo, in realtà il gratuito è un po' un dovere che noi sanitari abbiamo di informare i pazienti, di visita lo facciamo dedicando del tempo a scrivere dei testi online, ci tengo a ringraziare i tanti colleghi che hanno dedicato il loro tempo per raccogliere delle informazioni che sono state viste e riviste anche da alcuni giornalisti che fanno parte della piattaforma e un po' tutti quanti siamo finti dal desiderio di voler informare e voler dare informazioni e il tutto viene fatto gratuitamente perché siamo fortemente convinti che un paziente informato aderisca meglio alla terapia, quindi otteniamo con maggiore precisione il risultato e quindi un paziente coinvolto è certamente un paziente che guarisce prima e meglio. Mercoledì 19 aprile, immigrazione, nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivate 242 persone, un barchino si è ribaltato e un migrante è morto. Visita nell'isola del prefetto Valerio Valenti, neocommissario straordinario per l'emergenza. L'hot spot di Contrada in Briacola nei prossimi giorni sarà affidato alla Croce Rossa italiana. A Lampedusa durante la notte sono giunti 242 migranti, tra cui donne e bambini. Viaggiavano su cinque piccole imbarcazioni soccorse da guardia costiera e guardia di finanza. Durante le operazioni di soccorso un barchino in ferro si è ribaltato, un migrante è morto. Un bambino è stato accompagnato al poliambulatorio ma è ritenuto fuori pericolo. Sono stati registrati altri sbarchi, così adesso nello spot di Contrada in Briacola sono presenti 640 migranti. La prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di 127 persone. E ieri il neocommissario straordinario per l'emergenza, il prefetto Vareglio Valenti, ha iniziato da Lampedusa e sopra luoghi. Si avvia ad una soluzione la vicenda della gestione dell'hot spot che nei prossimi giorni sarà affidato alla Croce Rossa italiana, che è sicuramente sinonimo di garanzia e professionalità. Abbiamo discusso anche il trasferimento di migranti dall'hot spot di Lampedusa che verrà effettuato con due navi in più rispetto agli usuali traghetti di linea, due navi che saranno messe a disposizione del territorio proprio per gli spostamenti e per evitare che la struttura di primissima accoglienza sia sistematicamente sovraffollata, a comunicarlo il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, dopo la visita del prefetto Valenti. È stata discussa anche la questione dello smaltimento dei barchini dei migranti, la raccolta del rifiuti tanto all'hot spot quanto a Molo Favarolo, nonché il tema della perenne ricerca nei cemiteri di loculi per le vittime delle Traversate della Speranza. Dopo Lampedusa Valenti nel pomeriggio ha fatto visita all'hot spot di Pozzallo, dove ha assunto degli impegni in favore della città, auspicando un maggiore raccordo tra Comune e Ministero dell'Interno. Spariti dal carcere del Luciardone di Palermo quasi 17.000 euro, soldi di proprietà dei detenuti. La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati un ex contabile oggi in pensione di 68 anni. Secondo le indagini svolte dagli inquirenti sarebbe un ex contabile oggi in pensione la responsabile della sparizione dei soldi dei detenuti del carcere Luciardone di Palermo, guadagnati con l'attività lavorativa svolta al di fuori del penitenziario. Dopo la denuncia dei detenuti è partita una verifica interna sui libri contabili da parte della Procura e della sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, che hanno esaminato la contabilità dal 2009 ad oggi. Sul conto postale del Luciardone finiscono i soldi stanziati dal Ministero, ma anche i bonifici dei familiari dei detenuti e gli stipendi pagati da alcune imprese nel caso di detenuti autorizzati a lavorare all'esterno. C'è poi la cassa corrente dove confluiscono i soldi che i parenti versano per i detenuti fino a un massimo di 250.000 euro. La verifica è servita così ad identificare l'autore dell'ammanco di 16.845 euro, somma adesso sequestrata in via d'urgenza su ordine della Procura, con provvedimento convalidato dal GIP all'ex addetto all'ufficio contabile della casa di reclusione Luciardone. Il contabile in pensione da un anno aveva la delega ad operare sul conto corrente postale dell'istituto di pena. Ad accorgersi che qualcosa non andasse per il verso giusto, lo scorso dicembre è stata la direzione del carcere. Dalle verifiche ci sarebbero anche dei bonifici che attesterebbero queste somme passate da un conto all'altro. Nei suoi confronti è scattato il sequestro per equivalente dei suoi beni, pari quindi alla cifra che si ritiene sia sparita dalle casse del carcere. Giovedì 20 aprile, droga nel congelatore di casa e un'arma nella pizzeria. I carabinieri di San Cipirello hanno arrestato un uomo di 47 anni. Arrestato un 47enne di San Cipirello con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di arma clandestina. I carabinieri avevano notato nei giorni scorsi un viavai sospetto nei pressi e l'abitazione dell'indagato, in particolare durante le ore serali. Hanno quindi predisposto un mirato servizio antidroga nel comune. All'interno della casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sono state trovate 70 dosi di cocaina destinate alla vendita al dettaglio. La droga è stata ritrovata all'interno di un congelatore, dove l'uomo avrebbe tentato di nasconderla all'arrivo dei militari. Inoltre, nel corso della perquisizione è stata trovata la somma di circa 1.600 euro, ritenuto provento dell'attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche alla pizzeria gestita dal 47enne, dove è stata trovata, nascosta in un intercapedine, una pistola a tamburo calibro 38 con matricola a brasa, con caricatore, con otto proiettili, perfettamente funzionante. L'arresto dell'uomo è stato convalidato e il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale Pagliarelli. La droga sequestrata, che avrebbe potuto fruttare migliaia di euro, verrà analizzata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo. L'arma con matricola a brasa è stata invece inviata al raggruppamento investigazioni scientifiche di Messina, per gli accertamenti finalizzati a verificare la provenienza dell'arma e se la stessa sia stata mai utilizzata. Il valore del ricordo e della memoria al centro della cerimonia inaugurale degli stati generali della parola, dell'informazione e dell'editoria di Taormina. La manifestazione è organizzata dall'Ordine dei giornalisti Sicilia e dalla Fondazione Taormina Arte. È opportuno e urgente, a mio avviso, creare uno spazio di confronto fra soggetti diversi, editori, giornalisti, sindacati, esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni, ma anche esperti di marketing e nuovi media. La nostra storia, la vostra storia, è anche una storia di simboli e per questo desidero ringraziare, in apertura del mio intervento, i cronisti siciliani. Siamo debitori a ciascuno di loro, perché grazie al coraggioso lavoro di questi colleghi negli anni del dopoguerra abbiamo imparato a decifrare i codici a volte occulti e misteriosi della Sicilia, le sue regole non scritte. La mia gratitudine va in particolare ovviamente a chi ha perso la vita e alle famiglie di chi ha perso la vita a causa del suo impegno giornalistico, ma anche ai colleghi che ogni giorno continuano a dare il loro contributo all'informazione di questa terra e alla democrazia dell'Italia, anche a rischio della propria sicurezza personale. A 60 anni dall'istituzione della legge Gonnella, che ha creato l'ordine, tutelato i cittadini e il loro diritto di essere informati e tutelato i professionisti dell'informazione, credo che una riflessione sull'attualità sia urgente e necessaria. Tali diritti vanno protetti oggi, specialmente nel contesto digitale, ed è necessario che chi ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole deontologiche lo faccia con attenzione maggiore, addirittura maggiore e superiore rispetto al passato, per rendere la catena delle responsabilità chiara e trasparente ed effettivo il rispetto delle stesse norme e regole in vigore nell'editoria tradizionale. Sono questi i binari di quella che io voglio definire la responsabilità reciproca, che devono guidare il sostegno pubblico all'editoria, al quale deve corrispondere un impegno degli editori tradizionali e digitali a contribuire all'autorevolezza dell'informazione e al pluralismo. Io ho la caratteristica, credo adesso di poterlo dire, perché appunto sono passati tanti anni, di nascere all'alba di ogni giorno. Questo mi affranca da tante cose. La memoria la tiro fuori quando è necessario. Per esempio in questo momento che mi si dice memoria, io dico come li ho passati questi 60 anni, quando lasciando con molto rimpianto la cattedra titolare che avevo di diritto all'economia e non lasciando le lettere che mi affascinavano, in cui appunto mi ero laureata per passione, io devo dire mi sono dedicata a questo giornalismo variamente. Ho fatto la pubblicista, ecco perché sono iscritta all'albo da ragazzina, lo possiamo dire, oltre 60 anni fa ero molto giovane, però da pubblicista ho scritto parecchio, giornali di Sicilia, Radio Corriere, altri giornali, la Rai, ho fatto un'esperienza varia e si poteva fare. Poi sono diventata professionista e ho lasciato un insegnamento per la nostra esclusiva e ho fatto altre cose, uffici stampa, ho scritto di meno di quanto scrivevo da pubblicista e però devo dire ho potuto farlo. Dico che la scrittura, perché allora è la scrittura, poi ce l'ha la Rai certamente, ma la scrittura mi piaceva. Io sono convinta che adesso tutto quello che io ho fatto, che altri colleghi della mia generazione hanno fatto, non si può fare più. Venerdì 21 aprile, arrestata per peculato e corruzione Daniela Loverde, la preside antimafia della scuola Falcone allo Zen. L'indagine è stata condotta dal febbraio 2022 ad aprile 2023 dalla sezione EPPO del nucleo investigativo di Palermo. Con l'accusa di peculato e corruzione i carabinieri hanno arrestato Daniela Loverde, la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen, una delle più nord esponenti dell'antimafia palermitana, indignita anche del titolo di Cavaliere della Repubblica. La donna si sarebbe appropriata, con la complicità del vicepreside Daniele Agosta, anche lui arrestato, di cibo per la mensa dell'istituto scolastico, computer, tablet e iPhone, destinata agli alunni acquistati con finanziamenti europei. Questa mattina i carabinieri hanno dato esecuzione a tre provvedimenti cautelari degli arresti domiciliari emessi dal GIP. L'indagine, condotta da febbraio 2022 ad aprile 2023 dalla sezione EPPO del nucleo investigativo di Palermo, ha consentito di accertare l'esistenza di un unitario centro di interessi illeciti radicato all'interno dell'istituto comprensivo Falcone, formato dalla preside, dal vicepreside e da professionisti privati, che in concorso fra loro si sarebbero resi responsabili dei reati ipotizzati afferenti alla gestione dei fondi di spesa pubblici, sia nazionali che europei, nell'ambito di vari progetti scolastici. Dalle indagini è emerso che i dirigenti scolastici, in forza del loro ruolo di pubblico ufficiale, in maniera spregiudicata e per accaparrarsi i cospicui finanziamenti comunitari connessi, avrebbero attestato falsamente la presenza degli alunni all'interno della scuola anche in orari extracurriculari, al fine di giustificare l'esistenza di progetti PON di fatto mai realizzati o realizzati solo in parte, nella considerazione che la mancata partecipazione degli studenti avrebbe inciso in maniera direttamente proporzionale sulla quota parte dei fondi destinati per ciascun PON alla dirigenza. E' poi emersa una cattiva gestione dell'istituto nelle procedure di acquisto e fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa della scuola. All'interno dell'ufficio di presidenza era custodita una cospicua quantità di generi alimentari, costosi dispositivi informatici destinati agli studenti, che sarebbero stati costantemente prelevati alla preside dal suo vice per proprie ed esclusive necessità. Ad aggravare il quadro, per come emerge dal provvedimento cautelare, la dirigente ha costantemente alimentato la propria immagine pubblica di promotrice alla legalità, nonostante il quotidiano agire legale e la costante attenzione ai risvolti economici della sua azione amministrativa. Il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, in prefettura a Messina, per incontrare i vertici istituzionali e i 108 sindaci del comprensorio, per proseguire la mappatura sullo stato della criminalità organizzata. Credo però che in questo territorio, come nel resto della Sicilia, emerge un sistema criminale forte, presente. Soprattutto il traffico di stupefacenti costituisce una minaccia seria per i ragazzini, con rischi notevoli per la sicurezza pubblica. Allo stesso tempo notiamo una scarsa capacità del sistema territoriale di dotarsi di strumenti di tecnologia avanzata in grado di vigilare sulla sicurezza dei cittadini. Mi riferisco agli impianti di videosorveglianza. Ascoltiamo con preoccupazione che c'è una scarsissima capacità del sistema territoriale di dotarsi di strumenti di gestione sui beni confiscati comuni, che è una modalità in grado di risolvere in parte, ma comunque di dare un pezzo di soluzione alle difficoltà gestionali di tanti comuni sui beni confiscati. Abbiamo sentito che in questa provincia sono oltre 700 i beni che sono stati trasferiti ai comuni della provincia di Messina. Quindi c'è tanto lavoro da fare, c'è un sistema di interdittive per aziende che in qualche modo non possono accedere ai benefici pubblici e alle gare d'appalto ed è una costante attività. Ricordo che questa è la provincia dove maggiormente si è verificato il caso dei cosiddetti contributi per i pascoli, i contributi a GEA. Quindi c'è un'attività di monitoraggio, ma nello stesso tempo c'è la consapevolezza che bisogna fare un salto di qualità ed è questo il senso per cui noi siamo qui. Noi non siamo solo qui per ascoltare e sapere. Vogliamo provare a mettere insieme le diverse energie, quelle formalmente preposte, forse dell'ordine magistratura, quelle sostanzialmente preposte, cioè le istituzioni locali, per costruire quell'esercito diffuso che rompa e combatta l'indifferenza. Perché io credo che il peggior nemico della Sicilia e della Sicilia per bene siano il mondo di chi si gira la faccia. Quel mondo favorisce la mafia e noi dobbiamo conquistare quel mondo ad una consapevolezza che liberarci dalla mafia significa che ognuno di noi deve dover e poter fare il proprio dovere ovunque esso opera. Sabato 22 aprile, dopo il terremoto di magnitudo 4.4 delle 14.06 di ieri con epicentro del Mar Ionio, a circa 5 km da Acicastello, è tornata a tremare la Sicilia orientale. Un evento avvertito nelle città della costa Ionica, legato a una scossa di magnitudo 5.5 registrato a Malta intorno a mezzanotte 20. Adesso che una forte scossa ha ricordato a tutti la vulnerabilità del nostro territorio a dura prova nei secoli, qualcuno si ricorderà dell'assurda classificazione di Catania e di parte della provincia etnea in fascia sismica 2. Così la regione nega fondi necessari al consolidamento di infrastrutture e di edifici pubblici e privati. Così la politica condanna Catania alla paura. Queste le dichiarazioni di Enza Meli, segretaria generale della UIL di Catania, che ricorda ancora una volta come tutta la zona sia particolarmente sensibile, anche se per fortuna la scossa di ieri non ha fatto danni. Solo a Mister Bianco, con il crollo di alcuni calcinacci, cornicioni e pezzi di stucco in gesso, dalla tetto della chiesa di San Nicolò, è stato effettuato uno sopralluogo dal sindaco della cittadina Marco Corsaro, accompagnato dai tecnici comunali e dal dirigente della protezione civile regionale Salvo Coscina, insieme all'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che hanno disposto la chiusura della parrocchia. Dunque, dopo quello di magnitudo 4.4 delle 14.06 di ieri, con ipocentro nel Marrionio, a circa 5 km da Asci Castello, un altro sisma è stato registrato durante la notte ed è stato avvertito in Sicilia orientale. Stavolta è stata una scossa di magnitudo 5.5 registrata a Malta alle 00.19. L'ipocentro è stato individuato in mare a diversi chilometri a sud-est dell'Isola dei Cavalieri, ad una profondità di 10 chilometri. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana conferma che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni siciliani delle province di Catania, Raguse e Siracusa. Non ci sarebbero comunque segnalazioni di danni. È su disposizione del Dirigente Generale della Regione, Salvo Coscina. Dopo la nuova scossa, sono stati preallertati i sindaci e le strutture di protezione civile per eventuali interventi e la verifica dei danni. A scopo precauzionale, sono state messe sotto osservazione le aree costiere per un probabile maremoto. Preallertate anche le organizzazioni di volontariato. Incredibilità diffusa alla scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen di Palermo dopo l'arresto avvenuto ieri della Preside, accusata di peculato e corruzione. Siamo basiti, non riusciamo a capire bene cosa possa avere indotto a questa situazione. Non si capisce. Non ve lo aspettavate, non ve lo aspettavate dei movimenti sospetti a scuola, essendo comunque dell'istituto? Ognuno di noi fa coscienziosamente il proprio lavoro, anzi lavoriamo proprio per il senso civico. Cosa succederà adesso? Boh, forse ne sapete più voi che noi. Succedono certe cose. Sto facendo il vostro lavoro e non mi piace darvi la sensazione che noi sappiamo e non vogliamo dire perché questa è la cosa più brutta. Chiaramente mi sono spiegata. Io sarei perché voi parlaste con tutti, perché ritengo che nessuno di noi ha idea di quello che sta succedendo. Ritengo, ma non posso dire nulla. Questa era l'ultima notizia, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News. Grazie.